Nonna stazione, Gesù cade per la terza volta. Dal Vangelo secondo Matteo, Gesù diceva, Io vi dico, non vendicatevi contro chi vi fa del male. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu presentagli anche l'altra. Se uno vuol farti un processo per prenderti la camicia, tu lasciagli anche il mantello. Gesù è allo stremo. Nella caduta ha lasciato la croce ed è steso a terra. Ma facendo forza su una mano e su un ginocchio, sta tentando di rialzarsi. È caduto e si è rialzato. È caduto di nuovo e si è rialzato. Cade e si rialza ancora. Da quel primo chi cercate nella notte dell'arresto, non chiede pietà. Non si sottrae all'ingiustizia. L'hanno picchiato in volto ed ha offerto l'altra guancia. E li condanna con la sua innocenza. Aiuta, signori, quelli che cadono. E cadono ancora. E ancora. Aiuta i disperati. Progetto accessibilità a cura di Tactile Vision Onlus. Progettazione e coordinamento Rocco Rolli. Videoproduzione Alfonso Totaro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie.